Affidiamo al controllo aperto del governo la gestione della trasparenza dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Lo facciamo con un progetto ambizioso che metterà online in maniera continuativa tutto il sistema informativo dell'agenzia. Delibere, processi decisionali degli organi, i lavori delle commissioni, gli esperti, gli eventuali conflitti di interesse. Il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Pani, apre così la seconda giornata della trasparenza. Occasione per presentare in un'ottica a 360 gradi le azioni e i dati che l'AIFA ha prodotto durante l'anno in tal senso. La trasparenza per un'agenzia regolatoria è un dovere nei confronti dei cittadini, sottolinea Pani. Ovvio che potremo aprirci di più se anche tutti gli altri soggetti interessati saranno altrettanto trasparenti. È la giornata di accesso alla trasparenza di tutte le procedure che noi utilizziamo per tutelare la salute dei cittadini attraverso l'uso e il buon uso dei farmaci. Io credo che il lavoro che sta facendo l'AIFA in questo momento è un lavoro veramente di sostegno alla popolazione italiana. È un organismo importante dello Stato che sta cercando di rendere immediatamente disponibili ogni dato che viene in possesso. Anche il fatto di poter avere dei tempi certi è importante sia per i pazienti nella speranza di avere immessi sul mercato con velocità e tempi certi alcune nuove molecole, quindi l'innovazione. E anche per lo stesso investitore, cioè l'industria, è importante che sappia una temporizzazione corretta nel momento del rientro dell'investimento. L'unica cosa che deve fare l'AIFA, ma credo che sarà la popolazione che sosterà l'AIFA, è quella di aiutarla a una modifica del titolo quinto affinché noi in Italia abbiamo una unica AIFA e non 20 commissioni, una per regione, che vanifica il lavoro che lo Stato centrale fa. Questo per noi cittadini è inammissibile, inaccettabile e soprattutto insopportabile per poter avere da Torino a Milano, a Roma, a Venezia, a Palermo, a Cagliari, a Sassari, a Taranto, a Brindisi, tutti gli stessi farmaci e tutte le stesse possibilità terapeutiche per poter vivere o poter migliorare la qualità della vita.